Poker tricolore per la Dynamic Fitness di Palo del Colle, il quarto titolo italiano di cross nella categoria Master, arriva al termine dell'ennesima giornata di successi a Borgaretto in provincia di Torino. Successo di squadra sotto la sapiente guida del direttore tecnico Vincenzo 32 del responsabile atleti Gino Saccente con i 1073 punti complessivi collezionati dagli atleti della Dynamic che hanno staccato di 45 punti l'atletica Paratico e di 71 la Cambiaso Rissorunning Team di Genova. Titolo di squadra che fa il paio con la vittoria nella categoria SM60 di Domenico Caporale, gli ottimi piazzamenti di Fiorenzo Marani, Antonio Redi e Matteo Notalangelo nella categoria SM45 del quarto e sesto posto nella categoria SM65 di Stefano Greci e Antonio Zoppo del quarto posto di Francesco Quarato nella SM40, categoria nella quale la Puglia è salita sul secondo gradino del podio con Giovanni Auccello della Procanosa. Piazzamenti prestigiosi anche per gli atleti della Downia Running grazie ai secondi posti di Davide Rainieri nella SM50 e Abdelkrim Bumalik nella SM55. Downia Running che solo per due punti non è riuscita a conquistare il terzo posto nella classifica squadre mentre il quinto piazzamento della Procanosa, sempre nella graduatoria di società, completa il successo della Puglia.